ciao benvenuti in agenzia zenit stavo inserendo gli ultimi annunci immobiliari immobiliari punto it e la gestita punto it e i nostri portati a cui ci affidiamo per la migliore pubblicità venite pure di qua finita la pubblicità vi faccio vedere la sala conioni è un'agenzia molto bella funzionale e potete essere certi che una volta che avete la casa da vendere possiamo rassicurarvi su tanti aspetti l'aspetto catastale l'aspetto fiscale e sicuramente da un valore giusto all'abitazione un valore economico giusto che ci permette di trovare un cliente più velocemente e più certo di perfezionare la compravendita il cliente che verrà a comprare casa si troverà sicuramente bene tornerà assistenza garantita abbiamo degli amici dei professionisti geometri architetti ingegneri che vi tutelaranno fino al giorno della tono tarighe una volta che la compravendita sarà perfezionata vi aiuteremo a cercare migliori mutui e migliori notaio chi è avrete la certezza di avere la casa dei vostri sogni compra venduta con la massima professionalità nello studio di vita ci trovate via Roma 32 e siccome tutte le informazioni troverete anche su internet e sui principali social facebook e instagram un saluto a tutti e ci vediamo presto ciao 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 ciao